Disastro H, perché sono ormai decine e decine di cittadini che sono ricorsi, voi sapete che io sono identificato all'interno dell'amministrazione comunale come il consigliere comunale che si adopera per le persone bisognose e siccome il bonus rientra in quelle categorie sono venute tante persone a farmi notare un piccolo particolare, che poi piccolo in realtà non è. Le persone che hanno un reddito ISEE, un modello ISEE inferiore a 7500 euro annui, possono adire a delle riduzioni che riguardano luce, gas e acqua. Ma paradossalmente che cosa accade? Questa è proprio una bolletta tipo, che invece di essere detratte il bonus acqua viene aggiunto al consumo totale dell'acqua. Quindi invece di detrarlo il beneficio, praticamente l'acqua la fa pagare. Questa è una cosa assurda per dei cittadini che appunto ricorrono al bonus energia perché sono in difficoltà economica, quindi l'acqua gli fa un ulteriore regalo. A dimostrazione di ciò mi hanno portato, sempre i cittadini, un modello che adesso praticamente rilascia l'acqua per il rimborso, perché si sono accorti ovviamente del ricorso. Quindi chi si accorge che all'interno della bolletta non c'è il meno attraverso questo pagamento dell'acqua e quant'altro deve recarsi presso l'ACA o presso di me al Comune di Pescara dove gli vengono consegnati dei moduli per il rimborso. Insomma l'ACA è un disastro a cielo aperto, come si suol dire, o meglio ad acqua aperta.